Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Play, eccoci qui con il penultimo episodio di City Skyline Siamo nella nostra nuova vega, siamo a 363.000, a 364.000 in questo momento cittadini della nostra città Praticamente ho risolto, non che io abbia fatto qualcosa, però ho risolto i problemi dei deceduti, dei morti in casa Però adesso c'è un po' di problemi con la spazzatura e ho già realizzato dei nuovi impianti di atomizzazione della spazzatura Vi ricordate c'erano queste strutture nell'espansione città del futuro di SimCity? Questa è una mod, l'ho aggiunta e ha un'ottima capacità di bruciare i rifiuti Siamo ancora nella fascia gialla ma siamo già in una fase di miglioramento Il problema ragazzi è che avendo posizionato tutto qua si crea molto traffico con i mezzi Che appunto per uscire poi da questa zona vanno a creare delle code interminabili e appunto poi a piantarsi Comunque vedremo magari poi di sistemare anche questa cosa in un futuro, cioè lo farò io Qui come vedete c'è un po' di traffico in ingresso sull'autostrada Ma qui c'è un semaforo, no non c'è nessun semaforo, non capisco nemmai questi vadano così lenti e si fermino Però potremo risolverla subito questa cosa magari Dunque vediamo di separare ingresso e uscita dall'autostrada in due differenti corsie Quindi facciamo con una strada due corsie, no facciamo con le rampe autostradali Andiamo a fare l'uscita qui Che va allora intanto a ricollegarsi qua E poi sempre da qui andiamo a vedere se riusciamo a... no Facciamo così, no Andiamo a... questo mi dice lo spazio è già occupato, quindi proviamo tipo da qui No, lo slope to step, che palle, ma così me lo facevi fare Ah ok, quindi così ce lo fa fare, poi gli cambiamo direzione e il problema è risolto Mentre questi qui sono gli ingressi in rotonda, quindi andiamo a prendere questa Che è sicuramente quella che ha bisogno di più attenzione, questa qui ce la inseriamo Dunque se faccio tipo così... si... e poi così, ok perfetto Quindi con questa poi andiamo a inserirla qua E qui andiamo a cambiare il senso di marcia di questa e di questa Ok, in questa maniera dovremo spezzare il traffio in ingresso e in uscita E velocizzare questi qui, infatti dovranno rifare il giro naturalmente Leviamo i semafori di qui Striamo i semafori di qui Qui non ci sono Qui non ci sono Ok, qui comunque un po' di traffico qui ci si crea Però, come vedete, scorre sicuramente meglio Perché non devono attendere nessuno per uscire E infatti stiamo già accorciando, spero, questa fila Che è diventata enorme nel frattempo che parlavo, ma non importa Dunque ragazzuoli, dunque, dunque, dunque Come vedete, spazzatura ovunque Ma questo si è creato adesso Comunque, cosa volevo fare? Volevo dimostrarvi una mod Una mod che, avendo anche la mod della risoluzione dinamica Devo andare a far partire in una posizione particolare Allora, intanto mettiamo il tempo di giorno Andiamo a prendere una messa a fuoco ottimale Io direi che questa distanza potrebbe essere buona E ragazzi, entriamo in modalità cinematica Con il tasto Perché ci hai messo con questa altezza? Vabbè Vediamo di prendere la nostra altezza Cioè la nostra distanza già da questa modalità Ma non mi fai Ok, adesso si Ok, perfetto Questa mi sembra una distanza ottimale Per vedere cosa avremo davanti Perché con il tasto CTRL A, ragazzi Entriamo in cazzo di aereo Allora, non ho imparato molto bene a controllarlo Si controlla con i tasti WSD e il mouse Però con questo aereo potremmo andare a fare una giratina della città Magari evitando i palazzi Andando anche a velocità esorbitanti E sfiorando i nostri tetti dei grattacieli Gli aerei non curvano così, lo so Non virano così, però vabbè E dunque, stiamo andando nella zona industriale Questa è la zona industriale del distretto del Cancro Zona agricola Siamo nel Hill Valley Cioè nella zona di Hill Valley Siamo nella parte già più alta Stiamo facendo le derapate in volo Con questo aereo Mi scuso per la risoluzione Cioè la risoluzione La messa a fuoco dell'aereo Ma ui, 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 ui Vai su verso l'alto Vai su verso l'alto Aiuto! Ok Ce l'abbiamo fatta Non che succedesse qualcosa Adesso facciamo una breve girata Per vedere giusto dove siamo Siamo sopra al carcere Facciamo inquadrare il carcere in maniera Migliore Ok Vediamo di Ragazzi fare questa cosa qui Che un aereo Te ho aiuto! Ah, qui naturalmente io giù avanti L'aereo è unito di accelerare Non lo sta Ok ragazzi Stai passendo Quindi usciamo da questa modalità Rientriamoci E vediamo di andare di qua Che prima non ci siamo andati E facciamo un passaggio rapido Sopra i tetti dei grattacieli Possibilmente evitandoli Mi dispiace appunto anche della presenza dell'aereo A questo punto Io l'antenna Però Appunto la moda è così Quindi E andiamo adesso a fare una bella curruttirata Va bene ho capito Addio aereo Non ti ritroveremo mai più Ok ragazzuoli Allora La nostra città è praticamente terminata Non volevo aggiungere altro Però ho guardato un pochino E qui praticamente è l'unica cosa che Come disposizione spaziale Ancora ci può Bloccare Ora qui possiamo Entrere in modalità cinematica No ci può rientrare qua giù Comunque è questo Angolino qui Questo angolino qui che andremo Immediatamente a Riempire in qualche maniera A completare Con la costruzione di un altro Passaggio Cercheremo di unire con questo Allora Io direi di partire Con la costruzione Di strade A due corsie Normalissime Siamo comunque in una zona Vicina A una bella zona Povera Perché siamo Perché ho messo la strada Senso unico Perché sono un cretino Perché siamo vicini Alla zona dei porti Soprattutto appunto La parte bassa Sarà una zona molto Che avrà un valore Molto basso Ok Andiamo quindi a continuare La costruzione di questa strada Che sarà un po' No ma forse conviene Farla anche più grande Non lo so Forse conviene farla anche più grande Sì ragazzi Perché la strada Non è piccola effettivamente La zona non è piccola Quindi prendiamo Una normalissima strada A due corsie E facciamo un ponte Ok adesso siamo sotto Questa qui la Studieremo Per bene più avanti Nel frattempo Mettiamo il tempo in pausa Altrimenti non Nel frattempo mettiamo il tempo Non c'è più corrente Da quelle parti Qui ecco Mi piacerebbe una curva Così rettilinea Però come vedete Ci si crea un ponte Quindi dovremo fare Tipo Una via di mezzo Fra quello che voglio io E quello che mi fa fare il gioco Ok Semplicissimo Abbiamo però Definito già una Porzione Che viene coperta Benissimo Da queste strade La zona qua nel mezzo Sarà una zona Di un valore intermedio Questa è una zona Di valore abbastanza alto Perché è vicino a questo Antico borgo Sul Arroccato Sulla collina Sulla scogliera E Mentre questa zona qua sotto Sarà un pochino Di Sobordi Allora 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 Già che ci siamo La corrente La possiamo mandare In qua Invece che fargli fare il giro da sopra Così Possiamo costruire senza Stare attenti a questa cosa Perfetto Quindi qui leviamo Facciamo così Perché se no Qui non possiamo Demolire Oh Ma che problemi Hai Problemi Problemi Dai Dai Oh Ho visto Ok Quindi demoliamo tutto Questo tratto Di Rete Elettrica Demoliamo Questo tratto Di Rete Elettrica E Questo tratto Di Rete Elettrica Ok In questa maniera Abbiamo tutta la zona libera Tra l'altro Ragazzi potremo andare anche a Riempire qua sopra Nel prossimo episodio Vi ricordo che ci saranno Le I consigli Che mi hanno dato I cinque primi I primi cinque classificati Nella classifica Abbiamo tenuto L'episodio 20 L'episodio 34 Se non sbaglio E E poi ci sarà L'inondazione Inondazione Che me l'avete chiesta In cinquemila E quindi Si Che la devo fare Poi sono curioso Anch'io Non vi assicuro Un frame rate Adeguato Durante l'inondazione Perché comunque Ci sarà un bel po' Di caos E allora Qui ci si crea un tunnel Ma non è che la cosa Proprio mi dispiaccia Perché se noi facciamo Una cosa del genere Qui sopra Ci potrebbe essere Un'altra strada Che ci passa Vediamo come Verrebbe Tipo così Perfetto E in questa maniera Abbiamo quindi una Già definita Un'altra strada Io direi di andare A prendere Quell'allineamento lì E tirarlo dritto Per dritto Fino qua giù in fondo Un altro allineamento Se riusciamo a mantenerlo No Non riusciamo a mantenerlo Questo lì Però si Ok Slope to step Fino a Qui ce lo puoi fare Vabbè Allora facciamo Tipo così E poi vediamo Di perdere La nostra Linearità E andare a Ricollegarci Con quella strada lì Che sicuramente Una volta Attraversata quella Proseguirà Fino A qui Ok Questa la portiamo qui Perfetto Qui dietro Qui dietro Lasciamoci un po' di spazio Sì 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 Questa facciamo così Qui riusciamo Con una perpendicolare A quella Arrivare in questa zona qua Non so se è perpendicolare Ma mi importa anche il giusto Qui andiamo dritti Eh no Qui c'è proprio tanto dislivello Ok quindi qui dovremo fare Probabilmente un Una zona Dove andiamo a Accompagnare Il profilo della collina Montagna O chiamatela come volete Scogliera Effettivamente siamo Vicinissimi al mare Qui Quindi io farei tipo così E così E naturalmente Andiamo a metterci Un minimo di Ingressi Dalla parte sotto Perché se no Tutto il traffico Va sulla stradina Due corsie E non è E non è un'ottima Cosa Ok qui Volevo Ricollegarla così Perfetto Qui vediamo Se riusciamo a fare così E poi da qui Non mi piace Quindi facciamo tipo curva così E poi curva così Da qui andiamo qua Qui andiamo fin qua giù E qui colleghiamoci Uno e due Così Sì 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 E poi così Un po' di zigzaghi A caso Tra l'altro Di qua abbiamo Una zona Che Corre Lo spazio Già occupato Lo spazio Già occupato Yeah Da che Ah da questa Capisco Questa però Noi la possiamo già Riposizionare qui Perché quella lì L'avevamo messa lì Perché Era una zona Diciamo Terminale Non c'erano Sbocchi Da altre parti Mentre adesso Noi stiamo creando Tutta una Un collegamento Anche con questa zona Che sicuramente Andrà a essere Un po' rivalutata Un minimo Almeno E E E E Anche qui Sarebbe il caso Di farci Tante cose Dunque Lo spazio Praticamente Che riusciamo a sfruttare È fino a qua Facciamo già Una strada Così Vediamo un attimo Come viene Sì Qui riusciamo A costruirci Abbastanza bene Anche qui Qui si restringe Qui si restringe Qui si dovrebbe Rialargare A dire la verità Esatto Però siamo vicini Alla zona Del porto Qui siamo vicinissimi Alle autostrade Ma Ce ne importa Il giusto E qui andiamo A ricollegarci Qui così Ok Quindi Quindi Questa Qui sarà Il limite Massimo In qualche maniera E questo Lo mettiamo Così E andiamo A fare Una zona Su questo Cucciolo Cercando Cercando di assecondare Il più possibile La pendenza E in queste zone Dobbiamo un pochino Studiare Come Come riempire Perché Questa Per esempio Potremmo farla Così Qui potremmo Cercare Un'altra Di fare Un'altra strada Inclinata All'altro lato Ma non ce la fa fare Forse così Si ci fa fare Un ponte Qui ci fa fare Un ponte Uguale Quindi qui dovremmo Farla da sotto Per forza Anche se aggiungiamo Carico urbanistico Ad una strada Che è secondaria Quindi vedremo Di ricollegarla Il prima possibile Quando non ci sono I ponti Però Con la strada Di sopra Ecco Tipo qui È probabile Che ci riesca No ci va a fare Ancora punti Facciamolo Facciamo un collegamento E poi studiamo Il resto Intorno Quindi facciamo Tipo così Così E così Ok Questa strada Comunque rimane Troppo scollegata Vabbè Vabbè Questa qui Andiamo a Ricollegarla Ricollegarla No Facciamo così Perché tanto È stretta Quindi Cerchiamo di Fare così Tipo Anche qui Facciamo così Qui andiamo Praticamente sotto All'altra strada Come vedete Però il gioco Ce lo fa fare Quindi Tanto cemento Tanto cemento Tanto asfalto Che si interse Mi piace Vedere questi serpentoni Sanno un po' Di Ecco Queste qui Troppo Regolari Non mi piacciono Troppo Perché sembrano Delle Delle baraccopoli Più che Delle Case Così Forse Un pochino Più irregolare Rende Non lo so Ora vedremo Dunque Io qui andrei A ricollegarci Direttamente Qui Mi piace Fare queste curve Vediamo Cosa viene fuori In maniera Casuale Tipo così Che viene No Che viene No Che viene Così Qui non c'è Modo Di fare Eh Avevo visto Sai Slope to step Ci dobbiamo Un pochino Allontanare Sicuramente Perché se no Non ci va a fare La nostra Strada Ok Perfetto Qui va benissimo Così Due strade Presso che Parallele E E anche Un collegamento Interno Fra loro Bene Quindi Questa qui Sarebbe il caso Di fare anche Così Perfetto Quindi riusciamo A Sicuramente Rendere Tutto più Omogeneo E facilmente Raggiungibile Soprattutto Ci interessa Per i mezzi Soccorso In generale Questo non lo volevo fare Volevo evitare Che ci fossero ponti Dunque 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 Così 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 E poi Così Perfetto Qui proseguiamo Con questo allineamento E ci ricolleghiamo Dritto per dritto Di qua E qui Iniziamo A fare Un po' Di caos Con questa strada A mettere Un po' Di caos Con questa strada Che va a ricollegarsi Perfetto Da qui Poi vediamo Di fare Un collegamento Con questa Sarebbe bellissimo Ma probabilmente Non ci riuscirà Magari non lineare Non curvo Come volevo Ma più lineare Come questo Qui riusciamo A fare questo Verò Perfetto Da qui Andiamo A fare Una Slope To step Slope Slope To step Ragazzi Vi chiedo Scusa Per L'avevo già scritto In un commento Però Mi rendo conto Che L'unico modo Che ho Di comunicare Con voi E questo È sia colpa mia Sia un pochino Di colpa vostra Non ve la prendete Ma è così È quello Di dire le cose Nei video O utilizzare Il canale Youtube Questo Perché Non Non ho altra cosa Se non usare questa Ho una pagina Facebook Non ce le scrivo Effettivamente Queste cose Sopra Ci sono Praticamente Fondamentalmente Solo Immagini E Curiosità Postate da dei ragazzi Che mi aiutano E che ringrazio Tantissimo Però Non Non ci posto Questa roba Perché so Che nessuno La va a leggere Quindi Praticamente Poi Si creerebbe Un circolo Un circolo Vizioso Non è proprio Il termine adeguato Comunque Una situazione In cui io vi scrivo Le cose E voi Non le leggete Perché non ci siete Quindi Ragazzi Andateci Ogni tanto Sulla pagina Facebook Cercherò Di informarvi Su tutto Comunque Non sono riuscito A pubblicare Molti Anzi Veramente Ne ho pubblicati Pochissimi Di video E soprattutto Ne ho registrati Ancora meno In questi giorni Perché Perché Caos Totale Al lavoro Cioè Non c'è Un attimo Di tregua Non riesco A fare Niente A casa Torno a casa Sono distrutto E Si a volte Mi ci metto Al computer E dico Ora registro Poi Pensieri Insomma Non è Proprio Un gran periodo Per stare Dietro Alle scadenze Che mi ero Prefissato Io ho scelto Di Cioè Per finire Le serie Che ho in corso Ci vuole Veramente Pochissimo impegno A parte Fall out Iniziata da poco Però Parlando di City Skyline E The Witcher Siamo in fondo Praticamente Con tutte e due Questo è per l'ultimo episodio Di City Skyline Però Ho preferito Appunto Ancora Non finirle Perché Successivamente Poi inizieranno Delle nuove serie E Non volevo Sciupare Subito dall'inizio Quelle serie E ho preferito Diciamo Sciupare Anche se è brutto Dirlo Però Queste Perché Comunque Sono Serie Che ho Tirato avanti Con tanti problemi Frattutto Soprattutto Questa Perché Non era Questa La prima Partita Di City Skyline Perché Ho iniziato a vedere Questa partita Di City Skyline La prima partita Era un'altra La trovate sempre Nella playlist Poi ho avuto Dei problemi Con il computer Ho dovuto Installare Una nuova versione Di Windows E Addio Salvataggio Quindi Praticamente Questa è riniziata Subito dopo Perché vi stava Piacendo la serie Sulla Una serie di City Skyline Nella prima città Ballondopoli E quindi Ho deciso Di iniziarla Comunque Ho preferito Diciamo Lasciare Questo Lasciar passare Questo periodo Piuttosto Che Sforzarmi Per finire le serie O registrare In ogni caso I video Magari L'avrei fatti Controvoglia So che non è proprio Quello che uno Di solito Vede su YouTube Però Tante volte L'ho detto E Continuo a pensarlo Io ragazzi Non voglio Fare Quello Che Mi dite voi Nel senso Tante volte Si vedono Video Su quello Che tira In quel momento Io Non Non lo faccio Non mi piace farlo Perché Non Poi Le farei Controvoglia Le cose Cioè Non voglio Non voglio Avere successo Non voglio Fare le cose Per avere successo Per avere Visualizzazioni Iscritti Io voglio Fare le cose Che piacciono a me In questa maniera Mi risulta anche Una cosa Meno pesante Perché Purtroppo Dico purtroppo Ma per fortuna Lavoro E lavorando Non voglio Che il canale Diventi Un Peso eccessivo Sul Oioia Devo fare Questo Oioia Devo fare Quell'altro Voglio Che sia Un divertimento E che rimanga Tale Quindi Preferisco Fare le cose Che piacciono a me Piuttosto che Sforzarmi Magari Per fare cose Che Non mi piacciono Magari O non conosco Non solo Che non mi piacciono Magari non mi piacciono Per ignoranza Non voglio dire Che Facciano schifo Insomma Vabbè Si parla di gusti Quindi Per questo Ho Diciamo Preferito Far passare Questo periodo Con queste serie Piuttosto che Appunto Rovinare Anche quelle Che stanno Per arrivare Fra cui Kerbal Allora Colleghiamoci a questo Discorso Io Kerbal Lo adoro Lo adoro Nel senso Che È uno Dei Forse Secondo me Della top ten Dei giochi più belli Di sempre Cioè Non è un Si è bellino No È proprio Cioè È un È come Giocare Alle lego Come in minecraft No Dopotutto Solo Che Usi dei razzi Li mandi sul serio Nello spazio E ti senti figo E questa qui È una cosa Che penso Ogni bambino Abbia Cioè Ogni bambino Ha sognato Almeno una volta Nella vita Di fare Cioè Di pilotare Un razzo A me Sinceramente Non Cioè Non è che Mi ispirava A pilotare i razzi Mi è sempre ispirato Cercare di capire Come funzionavano E Kerbal È proprio Perfetto Per questa cosa Quindi Kerbal Lo adoro Partiamo da questo Presupposto C'è stato Un po' di Un po' tante Richieste Di Fai Kerbal Fai Kerbal Fai Kerbal Sì Kerbal Non l'ho ancora fatto E lo farò Nel senso Che Sì lo so Lo ho sempre detto No lo faccio E Vedremo Di fare Una serie Mi piacerebbe Fare una serie Più Come avevo iniziato Quella vecchia Più Studiata Cioè Non voglio Semplicemente Prendi Butta il razzo In orbita Poi si vede Cosa fare Oppure Ora si va lì E si fa questo volo Cioè Volevo fare Proprio una cosa Con una progettazione Dietro Diciamo Intanto ho fatto Questo bellissimo Perimetro Appunto Non voglio appunto Fare un Vediamo Cosa succede oggi Voglio fare Una cosa un pochino Più studiata Perché il vediamo Cosa succede oggi L'ho già fatto E quindi Ho paura Che diventi noioso Sia per me Sia per voi E Quindi preferisco Fare qualcosa Di differente Quindi Cos'era l'idea L'idea era quella Di fare un Tipo Una pianificazione Un test Dei voli Prima E dire Proviamo a vedere Per esempio Con quanto carburante Con la configurazione Magari più leggera O con quanto carburante Riusciamo ad arrivare Su X Che è una cosa Abbastanza Basilare Di Kerbal Cioè una volta Che si inizia a capire Come funziona il gioco Che si inizia a padroneggiarlo Viene in automatico Cioè viene in automatico Di dire Ma posso fare qualcosa Di meglio di questo razzo Quindi E' quella l'idea Cioè creare un qualcosa Che sia un po' Non dico di essere esperto Assolutamente Non ci capisco Una cippa di Kerbal Riesco Abbastanza A essere logico Sul funzionamento Delle cose Ma non Sul Non sono Capace Di costruire Progettare Quindi è per questo Che voglio fare una cosa Proprio dove faccio Questo Non voglio che sia Una guida Voglio che sia Un Gameplay Un let's play Un playthrough Un chiamato Come cazzo vi pare Dove Cerchiamo Cerco e cerchiamo Di capire Un pochino Come è meglio Costruire Come è meglio Entrare in orbita Come è meglio Provare a atterrare Ecco Una cosa Che mi è sempre Mi sarebbe sempre Piaciuto Imparare Atterrare Perché Quando si vanno A costruire Delle Basi Bisogna Portare Più pezzi Nello stesso Punto Ok Che qui è abbastanza Semplice Direi Bene Quindi vuol dire Che su Un pianeta Con l'atmosfera Possiamo Più o meno Azzeccare Il punto Semplicemente Lanciandoci Più o meno In quella direzione In realtà il paracadute Lo sappiamo Quanto ci rallenta Quando scendiamo Su una luna Invece la costa Si inizia a fare Un pochino Più complessa Perché Non che L'atteraggio Sulle lune Sia più complesso Cioè In realtà Si lo è Perché Con l'assenza Di atmosfera Non possiamo Utilizzare Paracadute Però E' proprio Un discorso Di Dosaggio Di carburante Che io E' quello Che voglio Principalmente Studiare Il dosaggio Di carburante Il dosaggio Di accelerazione Insomma Una pianificazione Generale Di tutto quello Che è Kerbal E dintorni Diciamo Perché comunque E' bene Studiare bene Anche la parte Gestionale Anche se Per la mia esperienza Non è così Difficile Anzi E' molto Semplice Però Un po' Ripetitiva Forse Vabbè Infatti è per questo Che comunque La mia modalità preferita Rimane la sandbox C'è già tutto Insomma Non è E' divertente Fino a un certo punto Sbloccare la roba Comunque Vedrete quindi Una nuova serie Di Kerbal Che riprenderà Nuova Per modo di dire Nel senso Che ripartirà comunque Dove eravamo rimasti Con quella vecchia E Da lì Vedremo di Tirare avanti Appunto Questa serie Insieme Poi Mi farete anche Sapere se l'idea Vi piace Se preferite Che Vedere qualcosa Come abbiamo già fatto Di Diciamo Semplice gameplay Di Kerbal Questo va un pochino In contrasto Con quello che ho detto Non voglio fare Quello che Volete voi Voglio fare Quello che voglio io Però Questa Serie di Kerbal Sto dicendo Una marea di parole Le sto spiegando Pochissimo In questo video Vabbè Non importa Tanto sto facendo Una cosa abbastanza Noiosa Di sottofondo Quindi posso Continuare a parlare Questa Cosa di Kerbal Deriva Tanto da un'idea Che mi avevo già fatto E vi avevo già detto Infatti Che quella serie Che era partita Verso Pasqua Sul canale Avrebbe avuto Questo tipo Di sviluppo Diciamo Però Dipende anche Dal successo E L'appagamento Che ho avuto Dal fare questa serie Qui Cioè Soprattutto I Commenti Quindi stare dietro Ai commenti Vedere I commenti Più belli Andare a inserire I vostri nomi Nella mappa È stata Un bel Una bella Esperienza Per me Spero anche Per voi Quindi Cercare di avere Appunto Un po' più Di Dialogo Con voi In questa maniera Perché Ovviamente Sì Il dialogo C'è sempre Però Non Non è Così diretto E scontato Quando Semplicemente Prendo E mando Un razzo Sù Boh Sù Duna Per Perché Dico Oggi Voglio Fare Questo Volevo Appunto Fare Una via Di mezzo Fra Quello Che era Prima E Un Decidete Voi Cosa Faccio Quindi Insomma Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi ho detto Un sacco Di cose Tanto La serie Che Cioè Kerbal Prenderà il posto Di questa serie Quindi Ci sarà un altro episodio L'episodio 40 E Successivamente Partirà Kerbal Non Chiedetemi Assolutamente Di mantenere Un Una Cioè tipo Tre episodi a settimana Non ve lo posso assicurare Perché Ve l'ho detto Il periodo è questo Ragazzi Magari ve lo dico E poi non lo mantengo E mi dispiace Sì che Preferisco dirvi Non riesco a darvi Una Una scadenza Agli episodi Quando riesco a registrarli Li registro E li pubblico Cioè Penso che sia un discorso Condivisibile da tutti Che il lavoro è più importante Quindi Fra le due Preferisco Sicuramente Tirare avanti quello E mi dispiace un sacco Non riuscire a tirare avanti Il canale Come vorrei Infatti spero che sia solo un periodo Così al lavoro Però Vabbè Questo era tutto Un bel Pappione di roba Allora ragazzi Stiamo Riempendo queste zone Io metterò Tante zone residenziali Un po' di Di fasce commerciali Qui perché ci stanno Però Insomma Sarà principalmente Una zona Una zona residenziale Mettiamo proprio un bel pallone Qui nel mezzo Una zona residenziale Tutto a bassa densità E vedremo di Demolire anche Quasi subito Discorso Gli impianti elettrici Che tanto Non ce ne sarà più bisogno In quanto abbiamo costruito Già un sacco di zone Che vanno a coprire Tutta quella parte Allora Direi di fare una cosa Per velocizzare Mettiamo qualche Isolato commerciale Qui Tipo qui Tipo Qui E poi Andiamo di qua Qui ne mettiamo Uno qua Uno Qua Qui no Ok E poi Qui farei Tutta questa fascia Qui di isolati commerciali E Queste qui Il resto Andrà praticamente Tutto residenziale Almeno qui Di qua Si allarga un pochino Magari mettiamo Questa e queste Come commerciali Anzi Fermiamoci Tipo qui Mettiamo questo Qui Di qua E fin Ora Questi sono Gli impianti di trattamento Delle acque reflue Non sono bellissimi Anzi Però Comunque Non sono nemmeno Delle fogne A cielo aperto Quindi Va bene Insomma Cazzi vostri Cittadini Dunque Vediamo di fare così Per velocizzare tutto Blanc Magari queste no Togliamo Come queste E come Queste qui Per il resto Lasciamo tutto Anche quelle lì Appiccicate Di qua Facciamo la stessa cosa Andando però A fare con più cautela Perché qua sotto c'è una strada Però basta prendere L'angolazione giusta Che non è questa Assolutamente Per evitare Che ciò succeda Forse ci siamo riusciti Queste vanno levate Questo è un parco Ok Qui manca qualcosina Ma lo riempiamo manualmente E ci siamo ragazzi Ci siamo Abbiamo quindi creato Dei nuovi quartieri Che vanno a riempire Quei buchi vuoti Che avevamo lasciato Ho scelto Di avere Uno stacco Ben più Deciso E preciso Nella città Con l'alta densità Nella parte principale Diciamo Della nostra città Mentre Avere una sfumatura Verso la bassa densità E comunque Tante zone Di bassa densità Nella parte Retrostante Montagnana Rimane quasi Arroccata qua sopra A difendere Il suo primato Il suo essere La prima Zona costruita Della Vallata Qui accanto Abbiamo costruito Quest'altra zona Antica Che potrebbe essere Diciamo La zona antica Di Montagnana E poi abbiamo Sviluppato Quartieri su quartieri Residenziali E commerciali Intorno Praticamente A perdita d'occhio Per Allargare Anche la popolazione Della città Perché le città Sono fatte Così Una zona Centrale Molto abitata Molto Popolata Appunto E una zona Periferica Grandissima E con Zona a bassa densità E quelle Sono quelle Che abbiamo Realizzato adesso E stiamo Continuando a Realizzare Direttamente Il tempo Così Allora abbiamo Dei problemi Di scarico Delle acque Refro E siamo Negativo Con i soldi In questo momento Ah La corrente La corrente La corrente La dobbiamo Togliere Anche Di qua Speriamoci Qui Così Così Perché Lei arriva Di qua Dobbiamo aspettare Che questa zona Venga realizzata Quindi L'acqua e reflue Ah ecco Perché mancano Perché non c'è Collegamento elettrico Quindi per favore Velocizzatevi E vediamo Di tornare Nella situazione Di tranquillità Qui Questo qui Non ha mica Una vista brutta Ragazzi Guardate lì Che Che panorama Si gode Dal suo Giardinetto Dietro La prigione Sono d'accordo Però Siamo proprio Sulla scogliera Anche questo qui Qui ho fatto Questo piccolo tunnel Non so per quale motivazione Adesso se lo vedo Però quindi Lo leviamo E vediamo Non ci posso mettere Niente Non importa Qui ci possiamo mettere Ragazzi Un bel parchettino Perché Si Di verde Anzi Facciamo una cosa Prendiamo Questo pennellone Qui andiamo a riempire Anche in maniera Abbastanza pesante Di alberi Tanto poi Quando ci verranno Realizzate le case Gli alberi verranno Levati Tolti Distrutti Mandati al macero Quindi Appunto Si creerà Un bel Vuoto pieno Con questi alberi Dunque Qui abbiamo fatto Qui stanno costruendo Siamo ragazzi Nel 2077 E Siamo arrivati A 374 E stanno continuando A crescere Adesso si dovrebbe unire Corrente Plonk Dai Eccola qui Il problema si risolve Di conseguenza Che l'acqua di ref Vero Vero Non è che abbiamo Tutta questa tranquillità Però Allora Lo status Dell'inceneritore È calato Ovviamente Perché Abbiamo aggiunto Cittadini Su cittadini Qui Stanno facendo Delle Ah ok ragazzi Qui abbiamo messo La zona turistica No Ma sapete che c'è Lasciamoli lì Lasciamoli lì Anzi Uniamola Con questa Via questi E nuovi Grattascelife Per mantenere Diciamo In planimetria La continuità Però Per mantenere Una continuità logica Anche di qua Andrebbero fatti Magari andando A tagliare Tipo così Per allargarci Fino a questa Dimensione Però Però anche di qua Poi No vabbè ragazzi Proseguiamo Tutto pari pari Guardate Abbiamo La forma di sopra Che si allarga E va a riempire Di sotto E allargarsi Il più possibile Perché comunque Poi Questo è il frontemare Anche se c'è il porto Sotto È un bel troiaio Infatti Vediamo magari Di scherlo con degli alberi Ce la faremo Vediamo un attimo Di prendere Dunque Qual era l'albero Quello che copriva A questo Un attimo E tornare indietro No Era quell'altro Che non vedo Vediamo Questi qui senza icona Se Si fosse cancellata L'icona da sola Forse era questo Sì Questo era quello verde Più scuro Questo qui allora era Ok Quindi vediamo Di riempire Un po' di alberi Questa Questo versante Anche qui Qui non abbiamo Proprio grande Possibilità Di metterci Questi alberi Perché non c'è Troppo spazio Anche perché Poi la schermatura Dovrebbero essere Tipo alberi Di 300 metri Per coprirlo Però vabbè Un minimo Ce li mettiamo Va bene ragazzi Vediamo quindi Di mettere questi alberi A fusto più alto Qui Piantiamo Nuove Alberi E vediamo Di coprire Un pochino La visuale Verso questo Brun podo Che c'è qua E però Dà una spinta enorme Alla nostra economia Ragazzi Siamo tornati in positivo Oni soldi Siamo a 42.815 Sicuramente in aumento 1600 cittadini 43.000 Infatti 1600 cittadini A settimana E siamo A 378.000 È possibile installare Gli aggiornamenti Grazie mille Computer Per riformarlo Proprio adesso E adesso ragazzi Possiamo Iniziare A In qualche maniera Salutarci Nel senso Lo sapete Ci sarà un altro episodio Oltre a questo Però Non realizzerò Altro Se non Fare Consigli Dei Primi 5 E Successivamente Fare L'inondazione Quindi Non giocherò Più Cioè È finito È finito Quello che Faccio io Quello che ho fatto io In questo periodo Abbiamo costruito Una città enorme Non me l'aspettavo Di arrivare A 380.000 È vero ragazzi Che Ho ricevuto Un po' di critiche Su questa cosa Però Ho sempre cercato Di spiegarla Stiamo giocando Con i soldi infiniti Giusto Però Dopotutto Quando siamo arrivati A un punto In cui Abbiamo visto Che funziona L'economia Come gira Perché devo stare A aspettare Mesi e mesi Per costruire Questo Pinnacolo Questi grattacieli Quando posso Semplicemente Costruirli Tanto Si tratta Di tempo Dopotutto Non si tratta Di Altro Quindi È semplicemente Per questo Che ho scelto Di utilizzare Questo metodo Che è un po' Effettivamente Lo capisco Non è Proprio il massimo Cioè Giochi con i trucchi Alla fine dei conti Però È un È un sandbox Ragazzi Quindi Ho scelto Appunto Di giocarlo Come tale Comunque Cosa volevo fare Oggi E poi Una cosa Fondamentale Il trucco Di soldi Infiniti L'ho messo Per una motivazione Ovvero Questa mod Qui Questa mod Qui Che consuma Una marea Di soldi Allora Cosa volevo fare Oggi Una cosa Non bella Non attraente Che però Ci servirà Per fare Ultimi episodi Ovvero Costruire Un Una cosa Poi deve essere Chiusa Quindi qua dietro Dovremmo rifare Una cosa Del genere Che sarà Una vasca Che conterrà L'acqua Della nostra Inondazione La voglio fare Qua sopra Perché qui Dovremmo riuscire Più o meno A colpire Tutta la città Naturalmente Ragazzi Scordatevi Che l'acqua Qui Perché qui Siamo alti Ma non poco Qui siamo Al livello Praticamente Siamo più in alto Di montagnana Questo qui È vero Che è più in alto Però Non penso Che riuscirà Assolutamente Un'onda Anche potente Quanto vi pare A raggiungere Quella zona lì Soprattutto Perché c'è Anche Nel mezzo E diciamo La smorzerà Un pochino Come quantità Di acqua Non è poca Siamo arrivati Al limite massimo Della mappa Come vedete Quindi Questo qui È il margine Estremo Alla Quale potremo Portare L'acqua Ho lasciato Questa Libera Per fare Quello che mi avete Detto Nei commenti Cioè che i primi Cinque Mi hanno detto Nei commenti E Adesso Oh mio dio Posso costruire anche fuori E questa Chi la sapeva Ok ragazzi Mi rimangio tutto E andiamo a portare Una vasca Ancora più grande A questo livello Andiamo Ok Direi che una Dimensione del genere Può andare bene Siamo a livello Qui siamo a livello Perfetto Di qua Facciamo Tutto Tipo così E adesso Velocizzerò Ragazzi E poi inizierò A riempire Che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, è tanta acqua. Vedremo di togliere subito queste fonti di produzione dell'acqua perché siamo già a un ottimo livello direi. Perché stavo notando che qua dietro ha deciso di esondare, probabilmente per le onde e le correnti che si sono create qua dentro. Vedete, c'era un dislivello bello grosso. Quindi, semplicemente leviamo la fonte dell'acqua, ora vediamo un attimo se si assisterà abbastanza velocemente o se uscirà tanta acqua. Di qua non dovrebbe dare problemi perché dovrebbe sgorgare tutta da questa parte. Un po' della nostra città ha già subito un discreto allagamento con l'acqua che qui non si vede neanche più, però è passata. Sicuramente adesso è andata di qua. Qui c'è un po' d'acqua. No, forse è andata via quell'acqua lì. Ok, quindi siamo arrivati ad aver costruito la nostra macchina di morte infernale che è qui che sballonzola e è pronta a colpire. Ok ragazzi, quindi interrompo qui e nel prossimo episodio faremo questa mega inondazione e colpiremo tutta la nostra città. O buona parte almeno della nostra città. Vedete il dislivello non è ancora... cioè qui è calato molto ma probabilmente perché deve tornare indietro. Se è creata un'onda che andava in qua ora tornerà indietro. Vedete qui è uscita l'acqua ma è poca roba. Quindi sì, piano piano si diventerà un lago questa cosa e poi apriremo i cancelli. Addio mondo crudele per tutta la nostra città o comunque appunto buona parte di essa. Direi che Montagnana è quasi al sicuro e per quanto riguarda la zona pianeggianti addio a tutti perché sicuramente si allargherà anche in qua. Per quanto riguarda la zona qui dovremo essere tranquilli. Perché penso che vada a defluire tutta verso il mare. Ah, qui c'è ancora un po' d'acqua. Sì, sì, sì. Qui si sono fatti un bel laghetto sotto casa. Un laghetto di tre piani più o meno a vederlo così, no? Forse di meno. E insomma mica è basso. I lampioni sbucano fuori a malapena. E si sono creati un po' di problemi nella nostra città. Stiamo scendendo i mille cittadini a settimana. Qui l'acqua sta ribollendo, non capisco. Vabbè, comunque ci fermiamo qui ragazzi. Nel prossimo episodio riprenderemo da questo punto. Vedrò di fare, probabilmente le farò velocizzate le proposte dei primi cinque. E poi inonderemo tutto quanto. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi al Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti.